Ecco Massimo e Patrizia a Budapest. Massimo e Patrizia raccontateci qualche cosa. Caro Giulio, è stata una grande gioia quella di poterti venire qui, di rivedere te e di conoscere il tuo mondo. È stata anche l'occasione per rivedere un po' il paese, diciamo, dove è nata mia nonna e devo dirti che effettivamente mi è piaciuto veramente tanto. Grazie Massimo e Patrizia, raccontaci qualcosa. Niente, la cosa più bella è avervi conosciuto perché siete fantastici tutti e due, siete meravigliosi, grazie. Averci conosciuto chi? Ci sono io e chi altro c'è? La tua moglie stupenda. Muzzica. Muzzica. Anche tu devi dire qualcosa? Anch'io sono stata molto contenta e sono contenta e spero di rivedervi molte altre volte che non è che adesso siete venuti, ho detto mai più. Mamma mia. Però domani è un po' di rilassamento. Domani facciamo il bagno in piscina. Venite da voi. È molto bella la piscina. No, io non sono stata, quindi verrò. Stiamo vedendo cosa cazzo. Mai la possano, in quel dinamico, ci sarà occasione, o un punto intermedio, se ci riusciamo a incontrare... Oppure magari un punto lontano. Un punto lontano. Un punto lontano. Un punto lontano. Grazie a tutti. Grazie a voi.